dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù alla folla io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete tutto ciò che il padre mi dà verrà a me colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno questa infatti è la volontà del padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno buongiorno a tutti oggi gesù si concentra su un aspetto fondamentale ossia che la vita è essenzialmente un movimento verso un incontro attraverso il quale si può intessere una relazione viva che realizza poi la vita stessa io sono il pane della vita quindi gesù ci dice che è la vita stessa discesa dal cielo per farci come noi per essere con noi e quindi vivere un incontro pieno con ognuno di noi subito dopo ci dice chi viene a me non avrà fame mai cioè ci dice che è necessario importante che anche ognuno di noi si muova verso di lui è il movimento reciproco quindi che determina un incontro vero e da un incontro vero può nascere una relazione profonda non avrete più fame e non avrete più sete nella nostra vita noi sperimentiamo certamente la fame e la sete fisiche che dobbiamo soddisfare presso che continuamente ma sperimentiamo anche in maniera altrettanto continuativa una grande fame e una grande sete dell'anima dello spirito e la fame e la sete della pienezza di una vera realizzazione interiore e umana e se ci badiamo bene se sappiamo ascoltare in profondità questa fama e questa sete ci rendiamo conto che ciò che la sfama e la disseta è l'amore e in particolare un amore che noi riusciamo a percepire come proveniente verso di noi quindi un sentirsi pienamente amati che ci porta ad amare pienamente questo è quello che ci dice gesù esistono cibi e bevande che apparentemente sfamano e dissetano l'anima ma sono cibi e bevande che danno una soddisfazione che non dura e ci dice provate a vivere una relazione vera con me venite a me provate a credere in me cioè provate a credere nel messaggio che io vi porto provate a mettere in pratica ciò che io vi propongo e la mia promessa è che sperimenterete piano piano un amore più grande sempre più grande e che non avreste immaginato prima ed è proprio così andare verso gesù provare a fare esperienza di lui attraverso la sua parola e sforzandosi di viverla può davvero aprire un mondo degli orizzonti insperati e che appunto non si sarebbero immaginati perché perché andando verso di lui e verso il suo messaggio crea nell'anima nello spirito pian piano col tempo come se fosse quasi un allenamento una palestra un abituarsi a riuscire a vedere in maniera pian piano più nitida attraverso una luce più grande ci fa sperimentare l'amore un amore che genera nel cuore pace che riesce ad andare sopra alle grandi sofferenze della vita che insegna ad affrontarle e che è in ultima analisi liberatorio per noi e liberante per chi ci circonda per questo ci dice non avrete più fame più sete in eterno perché attraverso l'esperienza del suo amore che qualcosa di insostituibile è un qualcosa di indescrivibile e chi l'ha provato dentro di se sa a che cosa mi riferisco perché quando si sperimenta questo amore così grande non se ne ha più fame perché questo amore così grande diventa esso stesso forma di amore in noi e fonte di amore che zampilla all'esterno gesù ci dice se bevete a me diventerete una fontana una sorgente che zampi l'acqua di vita eterna e la vita eterna è una vita che è imbevuta di amore ma qual è la cosa più bella e che gesù ci dice che chi va a lui non verrà cacciato via e non pone alcuna condizione per questo gesù ci dice venite a me provate a fidarvi fate esperienza di me e non ve ne pentirete e io vi accoglierò e cercherò di fare la mia parte in voi in qualunque modo voi vi presenterete a me cioè lui ci dice che non conta nulla come noi ci vediamo magari ci vediamo brutti magari ci vediamo privi di valore magari ci vediamo come autori di male a gesù non gliene frega nulla del male che noi abbiamo potuto aver commesso andiamo a lui lui ci dice venite a me venite a me con fiducia non mi importa nulla di quello che avete fatto non mi importa nulla se voi vi vedete limitati o brutti o inutili voi per me ognuno di voi tu che sta ascoltando sei unico e io ti farò fiorire in qualunque condizione tu sia questo è il messaggio del vangelo questa è la buona novella questa è la cosa che deve rallegrare ognuno di noi che la possibilità di vivere un amore più grande che ci fa sentire realizzati c'è c'è sempre in questa vita e non bisogna neanche aspettare l'altra vita per farne esperienza l'altra vita quella che ci sarà dopo la morte ce ne farà fare un'esperienza continuativa perfetta ma questo non vuol dire che noi questa dimensione di relazione vera che ci fa fiorire non possiamo già sperimentarla qui ora allora proviamoci grazie a tutti